il momento è questo facciamo vedere sto flex delle pull ne ho poche io ne ho sei lì vedete con i sei assai pull ragazzi assai pull e poi magicamente diventerebbero queste però ci siamo c'è la multi dei cinque stelle primo cinque stelle di oggi ciao jessica benvenuta in live primo cinque stelle di oggi ci siamo primo cinque stelle di oggi gorau ti voglio ma non ti voglio ma che cosa vuoi tu da me ma chi cosa c'entra allora non l'ho mai voluto stavo benissimo senza ok vediamo ok oddio ma dov'è dove eccolo sì l'abbiamo preso il primo arce abbiamo vinto il 50 il primo 50 ha vinto così 24 c'erano state troppe sacrosi in questa multi arce balla anche te non ti vedono puoi ballare anche te insieme a me che abbiamo trovato il primo venti di oggi quindi top top finger rock e tu l'abbia fatto allora che ti immagino impalato lì fermo si si e non è infatti va bene va bene si balla a lucca c'è problemi anzi si balla a maggio altro che a lucca top escono due cinque stelle due quando vuoi arce ci siamo ma così? sì così ok ogni singola potrebbe essere 75 76 non mi fa ridere 77 78 79 l'avevi detto prima che hai detto prima? che hai detto prima? eh io che cingola ho trovato una volta sola e lei ha detto quindi oggi ci rivedremo eh vabbè niente vabbè capita capita già che abbiamo vinto un 50 sono molto molto satisfied ora nella prossima multi la multi a soft a pt basso esce esce 20 quindi è bene c1 c1 e let's go andiamo due ne vogliamo due bravissimi ok 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 fermi per chi non l'avesse capito io avevo votato no 77 perché io so quando escono nel mio account lo so già ecco questa sapevi che stava bene ad arrivare? certo la devo dare a quella bella donna di Anna dai capelli rossi no non è vero mai no fatti eccolo zitti zitti allora era la 78 quindi abbiamo ancora tre virgolette 6 pull in questa multi questa è c5 ma niente esclude che potrebbe esserci il c6 anche in questo ne manca uno andiamo pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 e pt6 niente secondo me questa cosa rompe il gioco effettivamente ed esce adesso a 5 stelle giusto ciao Diana buon pomeriggio eccolo 20 arriva 20 aspetta dagli un attimo aspetta aspetta anche questo me lo ricordo diversi però è vero ci assomiglia però a quello dov'è? oddio che angoscia mini mini come mini mini dov'è? sì eccolo sì eccolo 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 raghi è c6 ci sei naggio faccio la scommessa naggio faccio la scommessa sì c'è balla anche te adesso ora devi è c6 cioè ai 20 c6 evviva terzo c6 del canale dopo la mia balle e litto di tempo si aggiunge al team del c6 anche il 20 di arce stavo dicendo l'arce di 20 è la seconda volta che lo dici al contrario ciao pueti tutto bene grazie te come stai? oggi si oggi pullatona per 20 c6 si vola proprio e si va a 30 oh finalmente dopo 8 piti diversi oh dai dai finalmente finalmente dov'è? dov'è? aiato dove sei? no no ma non ricordavo molto diverso questo canale oddio è come se fosse il mio account questo incubo fa sempre male tutte le volte oh che dolore al petto in questo momento io te l'ho già detto una volta ma poi vedere la mia faccia con Diluc accanto sembra che stia pullando sul mio account io sto male prego quando vuole 5 stelle aiato ok fermi ok 76 eccolo 76 oh una volta tanto che esce la 70 ora ce ne sono due arce preparati va bene questo banner si va diretti di ultimo se non ci fosse un domani let's go 5 stelle forse sì bene 5 stelle 5 stelle ragazzi è una delle ultime teoricamente lui ha messo l'arco vediamo se la teoria di Michael no a me le dragons benieri non sono uscite funziona doppio 4 stelle vediamo se la teoria di Michael funziona se Michael è nell'aria la teoria di Michael funziona la teoria di Michael di mettere l'arma sbagliata rispetto a quella che vuoi funziona lui ha messo l'elgi ed è uscito l'aran funziona non volevo dirvela così ma io stavo puntando almeno a una costellazione di Jin e magari adesso esce eccola 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 la costellazione Jin no mi hai sciagato adesso che gli ho rotto le scatole così tanto come mi hai sciagato no no esce Jin non mi hai sciagato perfetto l'ho detto io l'ho detto allora lo devi full adesso lo devi buildare lo devi buildare lo builderò devo dire a modo mio però lo build quindi si buildato e usato la prossima volta che mi riscatto i farm insieme 20 iatomi devi usare certo Vanni che ti abbraccio abbraccino a Vanni durante l'ultima multi eccoci mi sa che ti fu la prima va bene Jin 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 è vero adesso è diventato elementale adesso è diventato elementale mancava solo lei c2 che Jin esatto lei è vero che non lo vuoi fare nell'ultimo multi non lo vuoi fare non lo vuoi fare nell'ultima multi sta cosa qua nooo c'è Keqing c2 e Hayato c2 c1 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 c2 c1 c2 n'està c1 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 Grazie a tutti.